Presidente, io voglio ribadire nuovamente perché sennò si ritorna sempre sul punto che la sovrintendenza ha portato avanti un ottimo lavoro e la ringrazio, insomma la sovrintendenza è presente oggi e che gli stanziamenti in bilancio sono già in essere perché c'era un'azione in essere già in ambito culturale, per cui ai punti culturali noi stiamo già dando risposta. Abbiamo solo voluto raccogliere positivamente l'iniziativa dell'associazione e dei cittadini che hanno preso a cuore la situazione di quest'area, di questo parco archeologico e raccogliere questa iniziativa dando un voto favorevole e promuovendo quelle che sono delle iniziative che abbiamo raccolto e che mancavano all'interno della delibera. Tutto qua, grazie Presidente.